uomini di poca fede eravate già pronti tutti i detrattori abbiamo preso tre gol la partita scorsa oggi invece oggi no con i titolari no perciò ragazzi calma calma poi sono partite estive che lasciano un po il tempo che trovano però insomma sono importanti per mettere minuti nelle gambe e per cercare di non perdere poi quel viziettino di non prendere gol e di vincere le partite è molto importante per quello non è tanto il risultato sinceramente ragazzi lascia il tempo che trova però insomma la partita scorsa io non mi era piaciuto l'atteggiamento nel primo tempo poi i titolari hanno fatto vedere che ma non avevano bisogno che le cose le prendono più seriamente ecco oggi si è visto con i titolari però insomma io e quello quello che diciamo che che per me è più importante l'atteggiamento l'atteggiamento il cercare di non perdere appunto il vizio di vincere di quello di non perdere il vizio di non prendere gol insomma tutte queste cose poi il risultato lascia lascia il tempo che trova buonasera ragazzi buonasera buonasera a tutti ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico night nella casa del pane balloon belli siete ragazzi mi invito subito a mettere un bel like al video se siete felici comunque contenti è vero la nostra giornata di calcio mercato è pari pari a come quelle di ieri dell'altro ieri e dell'altro ieri ancora però diciamo c'è stata una partita c'è stata una mi che ho visto dei miglioramenti fisici in certi giocatori perciò la preparazione sta andando avanti si è vinto si è vinto bene insomma perciò se siete felici mettete like è importante è gratuito aiuto al canale a crescere e ragazzi se non l'avete ancora fatto potete anche iscrivervi è facile è gratuito attivate la campanella così rimanete anche aggiornati su tutti i contenuti che volete di più non dovete pagare qua niente canoni è tutto gratuito ci facciamo una chiacchiera al giorno di dieci minuti anche più di una quando poi inizierà il club del campionato e bene dai ragazzi vi aspetto tutti quanti mi raccomando like al video e allora insomma dai passiamoci questi dieci minuti e la partita io ho visto una bella partita dai sostanzialmente per quanto possa essere appunto poi una partita amichevole però ho visto dei dei giocatori in ripresa fisica tonali mi è mi è piaciuto molto e l'ho visto decisamente meglio parlo fisicamente partita non c'è stata mai storia dai finita quasi subito però ho visto appunto dei miglioramenti dal lato fisico e quello è quello che mi importa molto mi è piaciuto ancora mi aveva convinto ma oggi ancora di più ad lì e io inizio a pensare che veramente il trequartista sto giro ce l'abbiamo in casa perché perché non che non serva poi arriveremo anche a de chetela a parlare di chetela non che non serva però de chetela era un trequartista che gioca anche sulla sinistra perciò eventualmente può fare quel ruolo lì e sulla trequarti giocare con ad lì ad lì è un giocatore che come trequartista lo vedo bene molto molto simile al turco di due anni fa non sei su un trequartista che propone ma che difende che lega il centrocampo lega l'attacco al centrocampo cioè insomma è uno che fa tanto e lo vedo fare bene e c'ha dei piedi deliziose perciò oggi più che mai l'ho visto ancora meglio dell'ultima volta mi piace ancora mi piace sempre di più mi è piaciuto molto anche balutore io devo essere sincero ragazzi su balutore ne hanno dette anch'io molte l'anno scorso effettivamente aveva fatto male però perché no non dargli un'altra possibilità comunque tu sulla sinistra è teo hernandez teo hernandez di partite ne salta poco perché fisicamente integro è una bestia perciò per quelle poche partite che salta magari per la munizione per la somma di ammunizioni per un eventuale spero di no espulsione o comunque per farlo riposare va bene balutore va bene perché l'ho visto bene forse lui gioca un pelo meglio non come quarto di sinistra di difensore ma come quinto se si gioca con una difesa tre perciò può anche essere un'alternativa però l'ho visto è molto bravo a proporre ecco fa fatica fa più fatica a difendere però insomma per essere l'alternativa teo hernandez che salta veramente un numero minimo di partite va benissimo per me valutore e l'ho visto bene gli altri bene tutti quanti brandiaz ragazzi io brandiaz continuo continuo a non vedere una crescita in questo ragazzo a non vedere una ripresa con fronte all'inizio del campionato dell'anno scorso mi spiace perché ripeto è vero non è un giocatore nostro in prestito questo è il secondo anno di prestito poi tornerà se non lo si riscatta a real madrid però ci credevo perché l'anno scorso mi aveva fatto ben sperare poi si è perso un pochettino e non lo vedo in ripresa adesso vedremo vedremo poi appena inizierà il tutto insomma dai un amichevole che almeno stasera ci ha fatto un pochettino godere fatto ricordare un po i due mesi scorsi perché negli ultimi due mesi si è parlato solo di rinnovi di paolo maldini massardi calcio mercato che non c'è stato sostanzialmente di De Keteler che sono un mese che lo stiamo trattando insomma a proposito per quanto riguarda De Keteler oggi ci sono state delle notizie a riguardo che praticamente si è quasi più si è quasi arrivata alla fumata bianca no perché poi a un certo punto ogni giorno non dire il milan aspetterà solo 48 ore però è andata avanti tre settimane sta solfa insomma non è che mi faccio impazzire sta cosa qua si è sentito che c'è stata una mezza fumata bianca nel senso che il brugge avrebbe accettato una proposta del milan che comunque sarebbe arrivato a 35 milioni con i bonus non lo so vedremo vedremo io spero devo essere sincero a questo punto non mi interessa come non mi interessa se verrà o se non verrà io alla cosa che mi interessa che finisca sta telenovela perché veramente non ne posso più non io non sono uno che è un amante del calciomercato devo essere sincero e sono convinto che poi il milan come società e come e come come squadra sempre fatto grandi colpi con nomi sconosciuti che con nomi magari ecco perciò adesso l'hanno pompato talmente tanto sto di che tra l'era sconosciuto e oramai lo conosco lo conosce chiunque perché la telenovela milan bruges lo ha fatto a parte calcisticamente anche mediaticamente l'ha fatto conoscere a tutti perciò arriverà con un bella diciamo una bella dose di responsabilità dovrà far bene perciò insomma un peso bello bello tosto detto questo spero che comunque si concluda che venga o che non venga ragazzi io non sopporto più sta telenovela non voglio più sentir parlare nei teggi di de keteler milan bruges milan de keteler bruges non voglio più sentire parlare a sopporto più sta cosa speriamo detto questo io spero che comunque venga perché a me il ragazzo piace perché ho visto delle immagini e insomma ha un ha una bella idea di calcio è giovane ha un viso pulito insomma ce l'ha tutto vuole venire al milan c'è questo nodo qua adesso vedremo se lo risolveranno però non è che detto questo io non lo voglio io voglio che finisca la trattativa poi spero che venga ecco perché secondo me metterlo avere un trequartista in più perché noi l'anno scorso ragazzi non ce l'avevamo trequartista noi l'anno scorso avevamo brain diaz basta poi hai dovuto quando brain diaz non è più stato in condizione adattare che si adattare krunic insomma hai dovuto mettere oltretutto che si non ce l'hai neanche più non lo puoi neanche più adattare a quel ruolo hai ancora krunic però insomma è giusto prendere uno in quel ruolo e con questo ad lì che a me sta sorprendendo io pensavo fosse più un centrocampista ma io vedo che lui può fare quel lavoro non il trequartista alla roberto baggio alla dibala però può fare il trequartista insomma quello che propone e che lega un po l'attacco al centrocampo insomma che rientra anche tanto è quello lo può fare e lo fa bene lo fa bene poi anche c'è dei piedi buoni verticalizza non mi dispiace perciò se hai lui e poi riesci anche a prendere de keteler che lo puoi svariare trequartista sulla destra insomma è uno che va 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 dove va va bene abbastanza in tutti e tre i posti dell'attacco insomma diventerebbe veramente un bel mercato perché a quel punto lì veramente con un ad lì così e con un po bega che insomma questa sera ancora non si è visto però insomma mi dicono bello poi l'anno scorso ha fatto un gran campionato nel torino perciò bello bello pieno di 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 forze insomma io con un acquisto come de keteler non sarei scontento devo essere sarei contento del calcio mercato poi eventualmente puoi aspettare all'ultimo l'offerta piuttosto che però insomma quella deve essere una cosa in più ora dobbiamo fare il nostro mercato se il milan si è concentrato fino adesso su de keteler ha concentrato tutte le sue forze su sto ragazzo ci crede perché se ancora lì e sta dietro al bruges che non cala di una virgola insomma io penso che poi il milan come squadra e maldini come 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 dirigente è uno che da mola avrebbe mandato avrebbe mollato il colpo ecco se non l'ho fatto perché ci credono veramente tanto continuano a star dietro perciò a loro rischia pericolo perché poi rischia anche veramente di fare figuracce se non riesci a prenderlo c'hai perso un mese non l'hai preso se lo prendi c'è ti diranno c'hai perso un mese adesso vedremo però ci credono ci credo anch'io io credo in questa società in questa dirigenza perciò se ci credono loro ci credo anch'io spero in bene spero in bene ragazzi io spero in bene però detto questo dai è stata una bella una bella serata dai una bella partita una bella giornata speriamo che domani ci sia qualche novità in più per quanto riguarda appunto il decatelare e vediamo vediamo come evolue il tutto dai ragazzi io vi auguro una buona serata belli siete mi raccomando vi richiedo ancora di mettere like se non l'avete messo prima quando ve l'ho detto mettetela adesso che è importante è gratuito iscrivetevi al canale fate i bravi e come dico sempre io ragazzi ciao